salvatete di youtube noi siamo i rec in una nuova puntata di gta tre misteri e un bug ok il primo il primo mistero è il pizza stack fantasma che si trova a montgomery cioè fantasma nel senso che non appare nella mappa come vedete come i 24 set ad errare si vedete e siamo qua non si vede nessuna pizza vabbè secondo mistero catalina però prima vi vogliamo far vedere un bug che è però un po' strano che vedete questo cammino ah il cammino è grande ricky che è un cammino scusate io ci metto un casino ok è praticamente un cammino aperto che però non ci si può entrare questo è un bug di gta perché si sa che non si può entrare nei bug nei cammini guardate togliamo e sembra che vogliamo oh guardate il jet perché è in aria non è caduto vabbè prendi il jetpack che adesso andiamo da catalina vabbè adesso andiamo da catalina catalina vabbè catalunia spagna oh no che schifo il vibratore lol lol come dice edu lol 1 e 23 minuti e adesso stiamo andando vi abbiamo già detto questa è una del principali indiziati per essere la foresta del bigfoot infatti noi a proposito del bigfoot di questo modo così ricky guarda cos'è cosa c'è quel sasso la strana no non è niente è un sasso normale oh scusate c'è un quadrato ma e brachamente mi sa che io e il mio amico moca faremo e brachamente vi faremo vedere dove trovare i mostri cioè i mostri con le mod però noi non ce l'abbiamo lo dissi da tre mesi però non l'abbiamo allora prima di tutto vi vogliamo far vedere questi questi buchi nelle finestre che è stata sicuramente catalina questo è il sangue dei ragazzi probabilmente uccisi da catalina che in realtà sarebbero i suoi sposi manti che però sono ovviamente morti che adesso vede il terzo è un bar unico un bug unico nel gioco solo nel gioco di ricky che sfiga allora pensate io sono qua in gt ho con il playstation 2 è la prima volta che mi capita sono qui bloccato alla 76 76esima missione che vedete sapete la missione dove dovete salvare il mad dog il cane macchi e vabbè comunque praticamente a me non è che non è che lui aspetta finché non sei arrivato col cammincino è che si butta appena cioè in teoria lui non è che aspetta lui dopo un limite di tempo si butta il tuo si butta subito ah infatti questo è questo molto grazie a sto bug che è volato nero non posso andare avanti col gioco che adesso mi ero sbloccato da quella missione impossibile di tenas eh di pulaschi eccoci la sventura no non ancora cioè la vediamo in fondo comunque qui c'è usato leo fantasma l'abbiamo già fatto assoluta guente volevo farlo rivedere ecco si vabbè dai però adesso non ve lo stiamo a far rivedere perché la terza la prossima puntata sarà quella del big foot che faremo vedere dove si trova la sua faccia forse forse eh forse oh guardate questo è un romeo ah questo qua mi sa che è una delle tue fidanzate che ha la romeo no no in campagna la sua casa con la romeo campagna e la cosa ci fa lì vabbè è un romero è un po' una macchina campagna vabbè no è da pompicore scusateci per l'attesa adesso arriveremo saltiamo il filmato si saltiamo il filmato per 2 o 3 minuti siamo a 4 minuti scusate se vi teniamo un po' troppo impalati ma vi stancate ah comunque vedete Bobo è in realtà è un wow che strano modificato è un robot cioè è un è un robot che interior sarebbe di nero con una faccia ah tra parentesi di pure che praticamente la faccia è travestita ovviamente e ha una maschera antigas sembra ed è e si trova è una banda che io che si trova nel gioco mannù che è tra parentesi Ricchia è la Ricchia posso vedere mannù anzi no Ricchia no perché sennò questo è il gioco mannù questo non l'ho ancora provato lo è per il nuovo vabbè è stato un colpo di fortuna vedete The Strip The Strip adesso vedete il royale casino adesso faremo questa missione Mad Dog cane passi però con 2 G allora vi facciamo vedere che alcune volte si butta subito quando c'è scritto vai a pre cerco un modo per non fare salta al suvino guardate io vado qua e subito si butta ecco vedete è un bug molto strano non riesco mai ad andare oltre per fare così così retromarcia vado cosa passa qua una processione ti metti sotto e mi metto sotto ma non mi succede mai per oggi abbiamo finito oggi è finito la puntata dei Rack ciao a tutti ciao a tutti la prossima